e ci risiamo eh oggi chi mi porti come esempio tra i tuoi colleghi ubriaconi guardati questi interventi al senato di monti e la russa abbiamo pensato di innalzare l'età pensionabile a cento anni e solo in questo modo si garantirà un guadagno per lo Stato perché solo in otto prenderanno la pensione il problema il problema principale degli italiani sono i redditi e se i redditi rappresentano un problema li aboliremo direttamente l'uomo secondo me diciamocelo la cosa che deve avere un uomo per essere uomo i calli perché l'uomo deve essere calloso ad esempio che cosa mi rappresentano i ciclisti che si depilano che sono uomini sono mio nipote per gingetorge gli ho detto vuoi fare il ciclista non di depilare l'uomo per essere uomo deve avere nelle gambe il parco nazionale degli abruzzi deve avere gli scogliattoli che gli girano per le gambe capiti peli lunghi così quello è un uomo diciamolo va bene ad esempio l'uomo che si fa la manicure secondo me democraticamente va arrestato ma non solo arrestato va messo in isolamento diciamolo